I sogni devono correre liberi e superare ogni pregiudizio, perché le passioni non hanno genere. Sono inarrestabili quando si connettono con le persone che ci stanno vicino. E insieme ci danno la forza per cambiare gli schemi, affrontare le nostre paure e avere il coraggio di sfidare gli stereotipi. Perché il calcio non sia solo dell'universo maschile. Scegliamo liberamente i nostri sogni e lavoriamo per un mondo in cui tutti abbiano le stesse opportunità. Sosteniamo l'Italia e le azzurre nel loro sogno mondiale. La parità non può aspettare. Team Top Partner della Nazionale di Calcio Femminile, la forza delle connessioni.